Dicequazioni esponenziali Dicequazioni esponenziali E sapete la cosa aggiuntiva che adesso dirò Riuscirete a risolvere le disequazioni esponenziali Qual è questa cosa aggiuntiva? Beh, la difficoltà non è arrivare ad una risoluzione della disequazione stessa Ma la difficoltà sta nell'ultimo passaggio Cosa vuol dire? Dobbiamo ricordare il fatto che la funzione esponenziale è strettamente positiva Se l'argomento, scusate, se la base a è maggiore di 1 Invece è strettamente decrescente se la base a è compresa tra 0 e 1 Cosa significa? Allora, supponiamo di avere a elevato a f di x Per esempio, facciamo maggiore di a elevato a g di x Allora, come vedete le basi sono sempre uguali Ora, se a è maggiore di 1 La base è maggiore di 1 La funzione è strettamente crescente Essere strettamente crescente Significa che maggiore è l'argomento E maggiore sarà il suo valore Quindi cosa significa? Che più aumenta l'argomento e più la funzione sale di valore Quindi è giusto pensare il fatto che Il primo esponenziale è maggiore del secondo a parità di base Se l'argomento, se diciamo l'esponente, scusate, del primo esponenziale È più grande dell'esponente del secondo esponenziale Cioè f di x maggiore di g di x Ma questo vale se la funzione è strettamente crescente Perché più aumenta l'esponente E più aumenta il valore dell'esponenziale Cosa diversa invece se a è compreso tra 0 e 1 Perché? Perché la funzione è strettamente decrescente Quindi significa che più grande è l'esponente dell'esponenziale E più il suo valore diminuisce Più il suo valore è piccolo Quindi che significa che se noi abbiamo a elevato ad f di x Maggiore di a elevato a g di x Allora questa è vera nel momento in cui f di x è più piccolo di g di x Perché? Perché la funzione è strettamente decrescente Quindi più è piccolo l'esponente e più è piccolo il suo valore Quindi a parità di basi Il confronto si ha nel momento in cui l'argomento L'esponente del primo esponenziale è più piccolo dell'esponente del secondo esponenziale Ovviamente se c'è il segno di minore Tutto questo si traduce in che cosa? Si traduce che nell'ultimo passaggio Dopo aver effettuato tutti i passaggi algebrici Nell'ultimo passaggio dovete cambiare il verso della disequazione Se la base è compresa tra 0 e 1 Se la base è maggiore di 1 Non dovete praticamente fare nulla Il verso si mantiene Allora vi ricordo che questa cosa vale perché Una è strettamente crescente L'altra è strettamente decrescente Ok passiamo alle casistiche Che in realtà non servono a nulla Però giusto per un esempio Allo a caso 1 abbiamo a elevato ad f di x Maggior o uguale o minore di a elevato a g di x Allora con le equazioni In questo caso l'abbiamo già visto Cioè abbiamo due esponenziali Che hanno la stessa base Che hanno esponenti diversi F di x e g di x Allora qui il confronto Ovviamente va fatto tra f di x e g di x Ovviamente Che cosa succede? Che semplicemente possiamo scrivere F di x maggiore o minore o uguale di g di x Però dovete stare attenti alla base Perché se a è maggiore di 1 Il verso si mantiene Se a è compresso tra 0 e 1 Il verso si inverte Vediamo subito un esempio Allora supponiamo di avere 2 elevato ad x più 1 Maggiore o uguale di 2 elevato ad Facciamo 2x meno 1 Allora visto che le basi sono uguali Possiamo fare direttamente il confronto tra gli esponenti Ma le basi sono maggiori di 1? Ovviamente sì Quindi il verso si mantiene Quindi possiamo scrivere direttamente x più 1 maggiore o uguale di 2x meno 1 E questo in cosa si traduce? Beh questa è una disequazione di primo grado Quindi spostiamo tutti i termini con la x a sinistra Tutti i numeri a destra Quindi abbiamo x meno 2x Maggiore o uguale di meno 1 Meno 1 E quindi abbiamo meno x Maggiore o uguale di meno 2 Moltiplichiamo tutto per meno 1 E visto che moltiplichiamo tutto per meno 1 Cioè un numero negativo Dobbiamo cambiare il verso Quindi x minore o uguale di 2 Questa è la nostra soluzione Quindi per x minore o uguale di 2 2 elevato a x più 1 E maggiore o uguale di 2 elevato a 2x Meno 1 Come vedete il tutto è abbastanza banale Dovete solo stare attenti al verso finale Se noi abbiamo invece un mezzo elevato ad x più 1 Minore o uguale di un mezzo elevato ad x Ad x facciamo più 2 Allora cosa dobbiamo fare qui? Beh possiamo passare direttamente al confronto tra gli esponenti Però dobbiamo cambiare il verso Perché la base è compresa tra 0 e 1 Quindi x più 1 Maggiore o uguale di x più 2 Anzi facciamo di 2x più 2 Ok allora qui che cosa succede? Beh portiamo tutto a sinistra Quelli con la x E quindi viene x meno 2x Maggiore o uguale di 2 meno 1 E quindi abbiamo Meno x maggiore o uguale di 1 Quindi significa x minore o uguale di meno 1 Perché dobbiamo moltiplicare tutto per meno 1 E quindi si inverte il segno La cosa importante sta qui Sta qui perché il verso va invertito In quanto la base è compresa tra 0 e 1 Allora vediamo adesso il secondo caso Quindi caso 2 Allora nel caso 2 che cosa abbiamo? A elevato ad f di x Maggiore o minore o uguale di b Dove b è un numero Ovviamente questo numero non può essere Ne uguale a 0 Anzi in questo caso può avere qualsiasi valore Perché non stiamo nel campo delle equazioni La cosa importante è che come al solito Se la base è compresa tra 0 e 1 Va invertito il verso tutto qui Quindi che cosa abbiamo? Allora qui dobbiamo distinguere altri due casi in realtà Cioè b uguale ad a elevato ad n E b diverso da a elevato ad n Cioè se b si può scrivere come potenza di a Ovviamente ricadiamo nella casistica di prima Se invece b non si può scrivere come potenza di a Bisogna passare per il logaritmo Allora vediamo degli esempi Allora supponiamo di avere Un mezzo elevato ad x più 2 Facciamo maggiore di Facciamo 2 Allora qui che cosa succede? Il 2 può essere espresso sotto forma di un mezzo Cioè possiamo scrivere tranquillamente Un mezzo elevato a meno 1 Quindi facciamolo Abbiamo un mezzo elevato ad x più 1 Maggiore di un mezzo elevato a meno 1 Passiamo adesso visto che le basi sono uguali Al confronto tra gli esponenti Però in questo caso il verso va invertito Perché la base è compresa tra 0 e 1 Quindi abbiamo direttamente Il confronto tra gli esponenti Quindi x più 1 minore Perché va cambiato il verso di meno 1 E quindi che cosa abbiamo? Quindi abbiamo x minore di meno 2 Questa è la nostra soluzione Se invece b non ha a che fare con a Semplicemente dovete passare per il logaritmo Allora ritorniamo a questa casistica E supponiamo qui di avere invece di 2 Di avere 3 Allora qui che cosa bisogna fare? Bisogna fare x più 2 minore Perché il verso va invertito in quanto La base è compresa tra 0 e 1 Minore del logaritmo in base a un mezzo di 3 Praticamente abbiamo applicato il logaritmo a entrambi i membri Però ovviamente bisogna cambiare il verso Perché la base è compresa tra 0 e 1 E quindi x minore di logaritmo in base a un mezzo di 3 Meno 2 Questa è la nostra soluzione Allora passiamo al caso Facciamo Allora Vediamo il caso 3 Allora il caso 3 In cosa consiste? Allora è simile al caso 1 Però abbiamo due esponenziali con basi diverse Allora che cosa abbiamo? A elevato a f di x Maggiore o minore o uguale di b Elevato a g di x Allora qui che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo utilizzare la stessa strategia Che abbiamo visto con le equazioni Cioè bisogna manovrare le equazioni Le disequazioni Diciamo Gli esponenziali In modo tale da avere un unico esponenziale Quindi che cosa abbiamo? Allora Supponiamo di avere Qui dovrò inserire altre pagine Probabilmente 2 elevato a x Più 1 Diviso 2 Minore di 4 elevato a x Più 2 Anzi Qui in realtà Il tutto è abbastanza banale Perché il 4 Si può trasformare come 2 elevato a x Quindi in realtà Ricadiamo nella casistica Di prima Quindi non ha neanche senso Andarla a svolgerlo La cosa importante Che vi ho detto già in inizio playlist È che dovete conoscere Le cose che abbiamo visto Per le equazioni esponenziali Cioè dovete conoscere Tutte quelle strategie Se non abbiamo Nessuna relazione Tra b ed a Cioè b non si può scrivere Sotto forma di a Allora cosa dobbiamo fare? Beh dobbiamo Utilizzare la stessa strategia Che abbiamo visto con le equazioni Cioè Allora questa la lasciamo stare Perché Semplicemente Io questa come la posso scrivere? 2 elevato a x Più 1 Diviso 2 Faccio vedere che è banale Minore di 2 Elevato a 2x Più 4 Perché praticamente 2 elevato a 2 Per x Più 2 E quindi cosa significa? Possiamo passare direttamente Al confronto tra gli esponenti La base è maggiore di 1 Quindi il verso rimane così come x più 1 Diviso 2 Minore di 2x Più 4 E questa si risolve Banalmente Perché basta moltiplicare per 2 E abbiamo x più 1 Minore di 4x Più 8 Spostiamo I termini con la x a sinistra E i numeri a destra E quindi abbiamo Meno 3x Minore di 8 Meno 1 Che fa 7 Quindi x Maggiore Perché dobbiamo moltiplicare tutto per meno 1 Maggiore di Meno 7 Terzi E abbiamo praticamente Terminato Ok Vediamo il caso più patologico Allora supponiamo di avere Siamo sempre in questa statistica Però b È diverso da a alla n Allora supponiamo di avere 2 elevato a x Più 2 Maggiore Anzi facciamo minore Di 5 Elevato Allora non so qua che sto scrivendo Allora 5 elevato a x Più 1 Allora che cosa succede qui? Beh Questo esercizio lo abbiamo già affrontato Nelle equazioni esponenziali Semplicemente qui c'era il segno di uguale Allora qui che cosa abbiamo? Dobbiamo Manipolare questa equazione In modo tale da ricondurci ad un unico esercizio Esponenziale Prima di cambiare Prima di decidere Se cambiare il verso oppure no Vi consiglio di arrivare ad un caso banale Cioè Io vi consiglio Di cambiare il verso Nel momento in cui dovete fare il confronto Tra gli esponenti In quel caso Invertite il verso Se a è compreso tra 0 e 1 Se a è maggiore di 1 Non lo invertite Allora cosa dobbiamo fare qui? Allora dobbiamo scrivere questo Dobbiamo manipolarli Quindi 2 elevato ad x Per 2 elevato a 2 Minore di 5 elevato ad x Per 5 Quindi Dividiamo Che cosa? Dividiamo tutto per 5 elevato ad x Ovviamente state bene attenti Perché Nel momento in cui Facciamo questa divisione Il verso non cambia Perché ovviamente 5 elevato ad x È sempre maggiore di 0 Quindi Si può fare Se Non è così Ovviamente dovete stare attenti Perché le disequazioni funzionano diverse dalle equazioni Cioè Le disequazioni Se dividete un qualcosa per meno 1 Dovete cambiare di verso Ok Quindi abbiamo 2 elevato ad x Diviso 5 elevato ad x Minore Di che cosa? Minore di 5 Diviso 4 Ok Ora Questo lo possiamo scrivere come 2 quinti Elevato ad x Minore di 5 quarti State bene attenti Perché ci siamo ricondotti ad un caso banale Infatti Abbiamo un esponenziale Minore di un numero Questo numero Non ha a che fare con la base E quindi Dobbiamo passare per il logaritmo Ora la domanda è Visto che adesso Dobbiamo passare al confronto La domanda è Il verso va cambiato oppure no? Beh La base C'è venuta Compresa tra 0 e 1 2 quinti E compreso tra 0 e 1 Quindi che significa? Che il verso Va invertito Nel momento in cui Facciamo il confronto Ecco perché vi ho detto di aspettare Il confronto vero e proprio Quindi cosa possiamo scrivere? x minore Anzi maggiore Perché ovviamente Dobbiamo invertire il verso x maggiore del logaritmo In base 2 quinti Di 5 quarti E questa è la nostra Soluzione Vediamo l'ultimo caso Allora questo dovrebbe essere Il caso 4 Al caso 4 ovviamente È la sostituzione Allora Supponiamo di Vi prendo lo stesso esempio Che abbiamo visto con l'equazione Allora supponiamo di avere 4 elevato ad x Più 1 Più 3 per 2 alla x Meno 7 Maggiore di 0 Allora che cosa succede in questo caso? Beh Trasformiamo e manipoliamo Questa disequazione In modo tale da avere 2 elevato a 2x Più 2 Perché ovviamente Il 4 lo possiamo scrivere come 2 al quadrato Più 3 che moltiplica 2 alla x Meno 7 maggiore di 0 Allora questo lo si può spezzare in questo modo 2 elevato a 2x Qui mettiamo il 4 Perché ovviamente abbiamo 2 alla seconda Più 3 che moltiplica 2 elevato ad x Meno 7 maggiore di 0 Ora possiamo scrivere y uguale a 2 elevato ad x E quindi scrivere 4y al quadrato Più 3y meno 7 maggiore di 0 Questa è una disequazione in secondo grado Abbastanza banale Allora vi ricordo Che le due soluzioni Se voi le andate a trovare Allora intanto il delta è maggiore di 0 Perché ci viene 11 Allora le due soluzioni erano Meno 7 quarti Se non sbaglio E 1 Allora vediamo un attimo Meno b quindi meno 3 Meno 11 Fa meno 14 diviso 8 Quindi meno 7 quarti Poi l'altro è Meno 3 più 11 Che fa 8 Diviso 8 che fa 1 Ok queste sono le due soluzioni La domanda è Per quali valori è verificata questa disequazione in secondo grado Allora visto che il delta è maggiore di 0 A è concorde con il verso Significa che è verificata per valori esterni Quindi y minore Lo scriviamo y minore del più piccolo Quindi di y con 1 Unito a y maggiore del più grande Cioè y con 2 Ora però state bene attenti Perché? Perché y A noi non ci interessa y A noi ci interessa x Y è uguale a 2 alla x Quindi sostituiamo 2 alla x A posto di y Quindi abbiamo 2 alla x Minore di y con 1 Che è meno 7 quarti Unito A che cosa? 2 elevato ad x Maggiore Di y con 2 Che è 1 Ora esaminiamo queste due disequazioni Queste sono banali Perché abbiamo un esponenziale E a destra abbiamo un numero La domanda è 2 elevato ad x Può essere mai minore di un numero negativo? Ovviamente no Questa disequazione non è mai verificata Perché? Perché l'esponenziale è sempre maggiore di 0 Quindi non può mai Essere minore o uguale Di un numero negativo O comunque Non può essere minore di un numero negativo Al massimo Può essere maggiore Allora se qui c'era il verso di maggiore Allora in quel caso Potevamo scrivere che la disequazione era sempre verificata Cosa importante Quando passiamo Qui al confronto Quando passiamo a questi esponenziali Quindi qui Nel momento in cui andiamo a fare il confronto Dobbiamo invertire il verso Se la base è compresa da 0 e 1 In questo caso è 2 E' maggiore di 1 Quindi il verso non va cambiato Allora la cosa importante quindi E' che qui non è mai verificata Qui invece che cosa abbiamo? 2 elevato a x maggiore di 1 Possiamo passare Al confronto Diretto Perché? Perché ovviamente Qui non c'è neanche bisogno Di passare all'esponenziale Al logaritmo In quanto questo lo possiamo scrivere Come 2 alla x Maggiore di 2 elevato a 0 Perché 2 alla 0 fa 1 Quindi possiamo passare Al confronto Tra gli esponenti In quanto le basi sono uguali La domanda è Il confronto Va fatto con lo stesso verso? Ovviamente sì Perché le basi sono maggiori di 1 Quindi significa Che è x maggiore di 0 Quindi questa disequazione E' verificata Per x maggiore di 0 Allora prima di concludere Con questa Con questa playlist Con questo video Vi dico una cosa importante Per quanto riguarda Gli esponenziali La cosa fondamentale E' imparare bene Il primo video Che ho fatto di questa playlist Quindi vedere come si comporta La funzione esponenziale Imparare Ricordare Le proprietà Delle potenze E saper risolvere Le equazioni esponenziali Perché Dalle equazioni esponenziali Potete risolvere Facilmente Queste equazioni Ricordando Il fatto che Nel momento in cui Arrivate al confronto Tra gli esponenti Dovete cambiare il verso Se la base E' compresa Tra 0 e 1 Il verso Va mantenuto Come se La base E' maggiore Di 1 Con questa playlist Abbiamo terminato Come al solito Se il video è piaciuto Metti un mi piace Commenta Condividi E ci vediamo Al prossimo argomento Alla prossimo argomento